ciao a tutti oggi prepareremo le praline tipo raffaello il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa gli ingredienti sono mandorle pelate farina di cocco wafer alla vaniglia e cioccolato bianco diamo il via alla ricetta siamo alla ricetta mettendo all'interno del boccale i wafer e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7 andiamo a mettere da parte il trito di wafer senza lavare il boccale adesso mettiamo all'interno il cioccolato bianco e lo facciamo sciogliere per 5 minuti 60 gradi velocità 2 questo punto aggiungiamo i wafer e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 2 il composto è quasi pronto trasferiamoli in una ciotola e mettiamoli in frigo e lasciamolo raffreddare per almeno un'ora allora trascorso un'ora il composto risulterà duro con l'aiuto di un cucchiaio lo andremo a frammentare dopodiché ne prendiamo una parte lo mettiamo in mano lo schiacciamo un po prendiamo una mandorla la posizioniamo al centro e andiamo a formare la nostra fralina il composto inizierà a sciogliersi a questo punto lo passiamo nella farina di cocco prendiamo un pirottino e li andremo ad adagiare nei pirottini e continueremo così per il resto del composto fraline tipo raffaello grazie e alla prossima ricetta fraline tipo raffaello grazie e alla prossima ricetta